Ho fatto tutto io, lo giuro sulle ossa di mia madre. Non dovevo uscire io, ma Sabrina e Cosima che sono innocenti. Se le condannano, la mia morte sarà sulla tomba di Sara. Lo afferma Michele Misseri nella sua ennesima versione dei fatti fornita in tarda mattinata alla stampa. La narrazione parte da maggio, quando esplosa la sua crisi personale e con Cosima per arrivare a quel maledetto 26 agosto. Ero arrabbiatissimo perché il trattore non partiva e pensavo che tutti ce l'avevano con me. Gridavo e Sara è venuta a vedere. Questo ho pensato. Io gli ho detto vattene, ma lei mi doveva dire qualcosa. Allora l'ho sollevata di peso, l'ho girata per cacciarla e quando mi ha dato un calcio sono esploso. Tutta la mia rabbia l'ho messa sopra di lei. Avevo una corda sul parafango del trattore e gliel'ho girata due volte al collo. Sara aveva il telefonino in mano, prosegue Micheri, ed è caduto aprendosi in due. Quando l'ho lasciata, lei è caduta con il collo sul compressore e quando l'ho presa da terra aveva il collo storto. Micheri spiega di essersi reso conto solo due giorni dopo l'incidente probatorio che la figlia Sabrina sarebbe rimasta in carcere tutta la vita e non come le avevano detto che stavamo due anni tutti e due e poi uscivamo. Da allora, dice, nessuno mi ha più voluto ascoltare. Nel memoriale che porta con sé assicura c'è la verità. Dopo che ho visto quello che hanno fatto con le lettere non l'ho più dato alla procura. Le lettere, prosegue il contadino di Avetrana, nessuno mi ha detto di scriverle perché alla vigilia di Natale mi ero arrabbiato visto che nessuno mi credeva. Non sapevo nemmeno che a Sabrina potevo scrivere. Io sono cosciente che devo tornare in carcere perché so quello che ho fatto e devo pagare, ribadisce Micheri. Volevo ammazzarmi prima di andare in carcere con il veleno che usavo per pompare le olive e adesso mi ammazzerei, ma non lo faccio perché ci sono due innocenti in carcere. A Sabrina come potrò mai chiedere perdono? Si domanda, mentre della moglie Cosima afferma, la capirò se non vorrà più parlarmi. Per colpa mia ci è andata di mezzo e come lei anche mio fratello e mio nipote. Io ho fatto tutto da solo. Misseri, si dice pentito. Ho già chiesto perdono a Dio, ma non so se me lo ha dato.